Allora, buongiorno, faccio una piccola pillola basato anche su ciò che ha spiegato Rosalia Renda che ringrazio fortemente perché ha espresso delle cose molto interessanti in un modo semplice le voglio risprimere brevemente, quindi voglio fare soltanto il primo esempio che ha fatto quello di una superficie, insomma una specie di piattaforma quindi cancello il cubo e poi una volta accertatisi che nelle preferenze e negli addons abbiamo installato quello che si chiama l'extra add mesh extra objects quindi avendo messo la spunta qua, possiamo vedere tutto dall'alto con 7 nel tastrino numerico e possiamo a questo punto aggiungere, grazie a questa aggiunta, una mesh che è quella single vertice single vertice è molto carina, quindi qui tra l'altro un'altra cosa che si può fare con F2 è cambiare il nome e questa chiamiamola piattaforma quindi piattaforma, il punto che è stato creato è quello noi possiamo fare con CTRL e tasto destro del mouse posso estendere e fare una forma sempre tenendo premuto il CTRL, vado avanti e formo praticamente quello che sarà una struttura e tenete conto che premo il tasto destro del mouse dopodiché con SHIFT clicco sul primo tasto, sul primo vertice che ho fatto F, unisco insieme i due vertici, così diventa una curva chiusa e poi a questo punto posso fare A per selezionare tutto F per ottenere il pavimento e a questo punto cosa faccio? l'ho volto, quindi vedete che c'è il pavimento fatto così potete fare anche con delle immagini eccetera come volete facciamo E, lo estrudiamo quindi facciamo la piattaforma e se lo scaliamo e quindi otteniamo quello che è una piattaforma insomma che è abbastanza omogenea insomma abbastanza interessante ora, questa piattaforma se andiamo a vedere magari la vediamo di nuovo con la colorazione casuale con la cavity così vediamo bene tutti gli spigoli come abbiamo visto prima ma soprattutto vediamo qua clicchiamo e vediamo l'orientamento delle facce e vediamo subito che l'orientamento delle facce è sbagliato perché dovrebbe essere blu invece rosso e a questo punto cosa facciamo? andiamo in tab A, selezioniamo tutte le facce e poi dovrebbe essere sulle facce bisogna cambiare le normali e le normali e non mi ricordo mai dove è qua comunque sarà forse non lo trovo qua quindi sarà forse su mesh normali ecco facciamo inverti normali quindi in modo tale da accertarsi che sia blu ok? inverti normali vuol dire che tutto ciò che era rosso diventa blu e viceversa quindi se avete una struttura che è metà rossa e metà blu dovete selezionare prima le facce rosse e solo in quel modo invertite le normali di queste facce quindi questo è tutto quindi accertatevi questa cosa poi ultimissima anzi non era tutto perché dovete accertarvi anche che la trasformazione che vedete qua sia la posizione anzi lo vediamo con n dovete accertarvi che posizione e rotazione siano a 0 scala soprattutto rotazione e scala la posizione no ma la rotazione e la scala siano rispettivamente tutti a 0 la rotazione e tutti a 1 la scala se per caso come ad esempio può succedere selezionando un oggetto e magari scalandolo così vedete che la scala cambia perché può capitare allora a questo punto dovete fare la applica quindi c'è un metodo di applica che ovviamente è quello qua applica contro la e poi avete la possibilità di applicare rotazione e scala quindi rotazione e scala ok vedete che la scala è ritornata a 1 la rotazione era già a 0 quindi è a posto e questo è fondamentale perché tante volte non viene importato su sim soprattutto se la scala è negativa e tutto per questa micropillola la prossima per il taglio che mi è piaciuto tanto e quindi